è fantastico, nel voglio dirti che tu veramente hai gioia quando fai questo lavoro e io non potrei non sceglierti veramente perché sei bravissimo, sei bravo come lo sono tutti i quotidiani, ma tu veramente si vede che sei il primo che si diverte e non puoi non far divertire, te li posso fare questi complimenti, bravo? grazie, grazie, sa che oggi non sei soltanto il DJ ma è una band, spiegaci bene esatto, quest'anno abbiamo fatto un'altra formula, quindi abbiamo ampliato il nostro guy con Luigi, il nostro guitarista, che farà un live bello, comandico, ecco lì e poi abbiamo le due ragazze, Sara e Michela, bellissime, bellissime, bravissime, simpatissime, quindi loro due sei tu con le animazioni, io della musica, animazione, microfono e tutto il resto e del nostro live, bravo, bravo, bravo Luigi, vieni qua Luigi, cincino, ti lascio il microfono? si, si, io ne ho fatto dieci secondi anche a Michi dai, vedete pure voi, vedete pure voi intanto c'è il nostro amigo Luigi per il video altra, le posso presentare? dai, vieni, presentate Sara, Michela Michi, da Michi, questo è il nostro staff per il 2024, 2025, fino a quando vado in pensione, ecco, bene? guarda, io non ho mai capito quanti anni ha Cristian, perché si diverte anche tu, ma dovrei cercare di 18 anni più o meno, diciamo, se si mette in mezzo si confonde, è un ragazzo dentro, lui trasferisce proprio la voglia di vivere e di divertirsi, devi trasmettere l'allegria, in primis, sei tu quello che si deve divertire e poi far divertire gli sposi, quindi quello è il segreto, quello è il segreto, come si fa a fare questo lavoro trasmettendo prestezza, è impensabile, ragazzi in bocca al lupo, Cristian Continenza Band, devo dire, Wedding Band, grazie ragazzi, grazie 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 Grazie.